Bonus prima casa. Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla proroga dell'agevolazione e l'introduzione di un nuovo credito d'imposta, che però non sarà riconosciuto in automatico. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Come sappiamo, l'agevolazione prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa. Tuttavia, per poter beneficiare del bonus, l'acquirente non deve aver compiuto i 36 anni di età al momento del rogito e deve avere un'Isee inferiore a 40.000 euro. La scadenza per poter beneficiare del bonus era fissata al 31 dicembre 2023, ma il Decreto Mille Proroghe ha esteso l'agevolazione anche a chi, entro la fine dello scorso anno, ha stipulato il preliminare di compravendita. A condizione però che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. E a tal proposito, con la circolare numero 14 del 18 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni sul funzionamento del bonus prima casa Under 36. Nello specifico, per quanto riguarda gli atti definitivi stipulati tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 2024, l'Agenzia spiega che se al momento del rogito il contribuente non ha l'Isee 2024 in corso di validità, può comunque dimostrare di rispettare i requisiti anche in un secondo momento, purché l'Isee sia riferito allo stesso nucleo familiare inserito il giorno di stipula dell'atto. Poi, la circolare riconosce un credito d'imposta utilizzabile nel 2025 di importo pari alle imposte pagate in eccesso. Ma attenzione perché non sarà riconosciuto in automatico. Infatti, per riceverlo, il contribuente deve compilare un atto integrativo dal notaio contenente l'Isee 2024 in corso di validità, o, in alternativa, la DSU nel caso in cui l'Isee non sia ancora pronto. Questo atto può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d'imposta. In ultimo, l'atto esente dall'imposta di registro perché serve ad ottenere dei benefici fiscali. E per ora è tutto, al prossimo Focus!